Punto numero uno, l'atteggiamento di ieri al congresso del SAP è stato inaccettabile e ha portato disonore nei confronti delle migliaia di donne e uomini che vestono una divisa e che fanno il loro lavoro in modo straordinario. Io ho immediatamente chiamato la signora Patrizia pregandola di portare il mio abbraccio al maritolino, al figlio Stefano però le dico anche che quell'abbraccio è un abbraccio che credo non sia l'abbraccio del Presidente del Consiglio sia l'abbraccio delle donne e degli uomini che con la divisa servono nel proprio paese in modo straordinario che sono tantissime e che si sono sentiti disonorati da quel gesto.